Automezzi, macchinari agricoli, pannelli solari rubati a due aziende leccesi ritrovati in una masseria eletta a Gubbia, a Tuturano, lungo la strada alle 16, la vecchia via per Lecce. Vale circa 200.000 euro, la refurtiva sequestrata in mattinata dagli agenti della scuola mobile di Brindisi, guidati dal vicequestore Francesco Barnaba in collaborazione con i colleghi di Lecce. Era stata depositata all'interno di un capannone di un'abitazione di campagna dopo essere stata rubata a due aziende salentine. Gli agenti hanno ritrovato un fuoristrada modello Land Cruiser con annesso rimorchio sul quale era ancora posizionata una macchina per la raccolta e la pulitura delle olive rubata il 2 dicembre scorso ad un'azienda agricola di Surbo. Accanto c'era un furgone modello Iveco Turbo Daily, ancora carico di segnali stradali, un trasformatore e attrezzi freschi di furto avvenuto il 2 dicembre scorso ai danni di un'azienda di lavori stradali di Veglie. All'interno del capannone anche passamontagne guanti e centraline di auto. Nel retro della masseria gli agenti della polizia hanno ritrovato anche guaine di copertura dei cavi elettrici bruciate per ottenere il rame da rivendere al mercato nero. La scoperta è venuta fuori dopo un rastrellamento a tappeto di tutta la zona in stretta collaborazione tra le scuole mobili di Brindisi e Lecce. Indagini e approfondimenti sono in corso anche sul proprietario della masseria, il 36enne Emiolongo di Brindisi, già noto alle forze dell'ordine.